Al Pier Giorgio Reali di Montone si gioca il derby del Carpina, appunto tra Montone e Pietralunghese. Sono i locali a vincere per due reti a uno e tutto si realizza nel primo tempo. Si inizia subito dopo tre minuti con un gol di Cepodomo. Palla in aria, disattenzione della linea difensiva e l'attaccante Cepodomo aggancia la palla e non sbaglia davanti ai mischianti. Al ventiquattresimo però arriva il pareggio della Pietralunghese. Cross di Branco, ci prova Arcaleni ma il Montone si salva con un corner. Provincia si porta sul pallone e lancia in aria. Torreggiani è più veloce di tutti ed in sacca di testa. Il Montone è gelato e viene ristabilita la parità. Al trentesimo c'è punizione da centrocampo. Valla battuta a Provincia verso Morodei che al volo sfiora il palo e le udie tutti per il gol. Al trentaseiesimo arriva il vantaggio del Montone. Falle in aria di Bagiacchi su Cepodomo e per Alloe è subito penalty. Sul dischetto si porta il solito Tassi che non fallisce. Nella ripresa si parte quindi sul 2-1 su cui si era chiusa la prima frazione di gioco e si riparte al sedicesimo con un'azione in solitaria di Cepodomo che salta tutti. Si porta al centro dell'aria ma è impreciso nel tiro e la palla finisce sul fondo. Al quarantesimo ci prova ancora il Pietralunga che va in avanti. Cross ancora di branco, Baldeschi tira alto ma la palla finisce sopra la traversa. Ancora una volta c'è illusione del gol. Nel recupero è il bravo portiere della Pietralunghese Mischianti che si fa protagonista di una parata con un allungo sul lancio del Montone da fuori aria. Siamo qui con Tassi Maurizio, allenatore della Pietralunghese. Mister, questo risultato sicuramente è negativo perché una sconfitta fa sempre male però come ce lo puoi rappresentare? Dato le numerose assenze che comunque erano già conosciute all'inizio comunque i ragazzi si sono anche abbastanza comportati bene. Come ce la puoi riassumere? Assolutamente. I ragazzi non hanno nulla da dire. se non bravi. Il risultato è questo. Abbiamo tante assenze però chi è andato in campo ha lottato su ogni pallone e ha dato il massimo. Abbiamo davanti una squadra importante una squadra che in casa da filo da torcere a tutti con ottimi elementi. Noi abbiamo cercato, abbiamo preso gol subito. È stato un pochettino quello che temevo cioè l'inizio del montone in maniera forte e lì siamo caduti subito però siamo riusciti poi a recuperare subito la partita meritatamente. Quello che siamo stati bravi è tenere in gioco la partita fino alla fine e fino alla fine abbiamo lottato su ogni singola palla. Forse in un paio di mischi e con un pizzico di fortuna in più avremmo anche meritato il pareggio ma soprattutto in virtù dello sforzo dei ragazzi a un certo punto durante la gara se ben ricordo avevo addirittura sei fuori quota in campo perciò cosa dire a questi ragazzi sono solamente bravi poi il risultato ovviamente ha fatto la differenza merito al montone che è un'ottima squadra e noi continueremo a lottare ogni singola partita sappiamo che lo dovremo fare fino alla fine cercando di raggiungere l'obiettivo della salvezza e non sarà facile abbiamo tanti ragazzi adesso con calma con la società ci stiamo un attimo confrontando per cercare di rinforzare questa squadra per cercare poi alla fine di centrare questo obiettivo e ripeto che non sarà per niente facile per noi. Eccoci con Borgo allenatore del montone oggi vittorioso di questo derby 2-1 contro una pietra lunghese mister felice di questo ovviamente risultato? Felice sicuramente sì perché prendendo tre punti si proietta attualmente terza in classifica però abbiamo giocato secondo me con una squadra che non merita attualmente la classifica che ha una squadra che tutto rispetto io l'avevo detto anche in settimana ai ragazzi oltre che era un derby conosco l'allenatore di loro Maurizio che è una vita che ci conosciamo e so come fa a allenare le sue squadre io penso che secondo me con un innesto 2 questa squadra si tirerà fuori prima possibile da questi bassi fondi della classifica grazie a tutti